buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale dei video di oggi andiamo a vedere un videogioco su blog cene play to earn e incentrato sia sulle battaglie pvp pv e con degli nfc e anche sulle eventuali rendite passive legate agli nfc stessi prima di cominciare questo video vi invito se vi piacciono i miei contenuti di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro e dobbiamo anche la nostra community telegram mi raccomando piccolo disclaimer fate sempre le vostre ricerche prima di andare a depositare le vostre cripto valute all'interno di un progetto non prendetelo assolutamente come un consiglio finanziario non sollecente all'investimento ma soltanto ad un video educativo se vi piace il contenuto vi può potenzialmente piacere il progetto il videogioco andatelo ad approfondire in autonomia mi raccomando non basatevi sulle opinioni degli altri andiamo a vedere wizardia ovviamente dopo la sigla siamo sulla pagina ufficiale di wizardia raggiungibile all'indirizzo wizardia appunto io ma che cos'è wizardia è un gioco play to earn pvp pv e che gira sulla bai na smart chain che è sostanzialmente incentrato su tre caratteristiche principale la prima caratteristica del gioco è un combattimento a turni evoluzione del gioco che guidata dalle decisioni del giocatore e la possibilità di acquistare degli nfp che generano delle rendite passive gli nfp in questione anche se hanno tre caratteristiche ovvero sono appunto non fungibili token che si possono utilizzare anche a di fuori del gioco si possono vendere negli store ogni in effetti ha delle caratteristiche uniche e degli scopi unici che si possono utilizzare all'interno del gioco e per l'appunto permettono anche una piccola rendita passiva però come dico sempre ragazzi anche se si tratta di un videogioco si tratta di un gioco su block chain play to earn quindi dove dobbiamo acquistare degli nfp per permetterci di giocare e si permette ci anche eventualmente di guadagnare sia dalle vittorie in game sia dalle rendite passive però attenzione che per giocare noi dobbiamo acquistare quindi è come se stessimo investendo all'interno di questo progetto o non qualsiasi progetto critto quindi prima di acquistare un nfp prima di utilizzare il token utility all'interno di questo gioco mi raccomando fate per piacere le vostre ricerche questo un video completamente e unicamente educativo per far vedere che esiste questo gioco su block chain ma non vuole essere assolutamente un consiglio finanziario ma soprattutto un sollecito all'investimento un sollecito all'acquisto e al gioco quindi mi raccomando ragionate con la vostra testa e fate le vostre ricerche per piacere da vedere dall home page ci sono diversi round sette round dove è possibile acquistare gli nfp attualmente siamo nella fase 4 le prime tre fasi sono dati sold out e ad ogni fase il prezzo per l'acquisto degli nfp va aumentare oggi mentre sto registrando il video un nfp costa in media 255 dollari sono stati venduti 685 nfp su 4000 nfp disponibili ed è proprio questo che intendevo dire pochi minuti fa perché per giocare per avere gli nfp in questo caso noi andremo a sborsare 255 dollari e i rischi legati al gaming play to earn comunque a qualsiasi progetto su block chain sono gli stessi che possiamo trovare su dei progetti cripto anche se si tratta di videogiochi quindi analizzatelo veramente bene come se stessa e decidendo se acquistare un token dedicato a un progetto cripto o meno andando più sotto nella home page mi evitano di andare a cliccare sui link per farvi vedere la community social perché l'hanno già inseriti all'interno della loro home page dove su disco raccontano 57.485 utenti 51.912 su telegram 109.000 su twitter 153.000 su tik tok e credo che questo counter vado a indicare quante mail hanno ricevuto più sotto abbiamo due immagini per quanto riguarda il pvp e il pvm un trailer del gioco che ve lo lascio visionare in tranquillità il team in bella vista che anche in questo caso come sempre vi lascio verificare le informazioni riguardate al team che è importantissimo in un progetto analizzare e andare a verificare se il team è realmente esistente se le informazioni che troviamo sono veritiere per quanto riguarda gli advisor abbiamo sandip trust swap danny wilson del team di illuvium thomas martinas di zen capital e più sotto tutti gli investitori che stanno credendo nei progetti investitori e partner per quanto riguarda la roadmap q3 2022 dove ci dovrebbe essere il listing il tier 1 presso un check dei tornei a livello globale a livello mondiale marketplace e e cercheranno di aumentare le community si bello da leggere che puntano ad avere una community così corposa però loro potrebbero averla assolutamente qualora il gioco prendesse piede rispettassero tutta la roadmap ma soprattutto il risultasse vincente il loro sistema di gioco dovrebbe uscire se non sbaglio una versione demo giocabile della battle arena circa in tre quattro settimane infatti anche secondo la roadmap dovrebbe esserci il battle arena game alfa dove lasciano appunto una demo il tournament system utilizzare in effetti sale community vada intorno a 400 k utenti come la maggior parte dei casi dei videogiochi play to earn e dei progetti all'interno del progetto stesso della possibilità di acquistare i token utility e acquistabile tramite gate punto io ho soppabile su pancake swap token che economia del gioco ed è possibile anche metterlo in state cliccando su stake w z rd si può andare a mettere a vincolare a rendita per 46 o 12 mesi con un epi variabile che varia da 31 53 e 114 per cento è un epi variabile quindi non rimarrà stabile questo interesse ovviamente per interagire con questo videogioco bisogna usare un wallet non custodia debitamente settato sulla biana smart chain per quanto riguarda l'atto che nomics a circa 300 milioni di token per quanto riguarda la supply 40 per cento è destinata al play to earn e allo staking 4 per cento la community 15 per cento la private sale 5 per cento al seed 18 per cento marketing e listing 18 per cento team ed advisor hanno però un vesting che va sia il team che gli arviso di 19 mesi riguarda l'acquisto degli nfp bisogna andare su buy arena nfp ci permette di andare a selezionare quanti in effetti acquistare il valore attuale degli nfp che ogni round aumenterà e la possibilità di andare a pagare in bnb usdt e usd si viene messa anche a disposizione un calcolatore dei guadagni degli interessi questi sono calcoli potenziali delle possibilità che si hanno per quanto riguarda gli interessi passivi interessi che vengono generati dalle fi delle transazioni del token e dalle fi delle transazioni delle reward del game in play to earn anche qua capite bene anche un potenziale rischio perché se il gioco non prendesse piede oppure prendesse piede per un certo periodo di tempo ma successivamente avesse un freno quindi non ci fossero più transazioni giochi o d'altro anche a parte il perdere valore del token l'impossibilità di vendere gli nfp anche per quanto riguarda le reward passive saranno praticamente annientate diversamente il gioco prende piede ci sono tante transazioni sono tanti utenti che giocano a questo gioco gli incrementi possono aumentare quindi questo è un potenziale rischio rendimento che bisogna tenere in considerazione ed è un fattore importantissimo perché non sapremo come si evolverà il gioco come si evolverà live del gioco nei prossimi mesi supponiamo di aver acquistato un nfp oggi che siamo al 4 round quindi 255 dollari supponendo di aver acquistato un nfp e successivamente se il prezzo di wizardia aumentasse ma aumentasse anche il numero dei giocatori all'interno del gioco permette di andare a calcolare virtualmente quanto potrebbe essere il nostro rendimento ad oggi ci stiamo intorno al 0 17 0 16 0 17 centesimi di dollaro supponiamo 20 mila utenti andiamo a calcolare in questo caso ed è solo una supposizione se andrebbe a guadagnare un variabile del 38,31 per cento e come ho detto per avere un revenue ci sono veramente tantissime variabili che sono uguale ai rischi e vi ricordo con video educativo non un consiglio finanziario perché non ho la sfera di cristallo non posso sapere a priori se il gioco prendere a piede è quello che succederà in futuro per poter acquistare il token come detto prima si può acquistare su gate punto io oppure su un pancake swap per acquistare il token su perché i suoi bisogna avere un wallet non custodia debitamente settato sulla baina smart chain quindi bisogna avere bnb anche per il pagamento delle fee oltre per eventuali scambi si clicca su cake si va a inserire il l'acronimo del gioco w z r e in questo caso viene aggiunto e si può su appare supponiamo di avere un bnb avremo la possibilità di sopparlo con 2412 token del gioco bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile vi invito per supportare il mio lavoro come sempre se avete voglia di iscrivervi al canale e doni bianca la nostra community telegram vi invito inoltre come ho fatto in apertura al video di fare sempre le vostre ricerche di non basarvi solamente sulle idee le opinioni degli altri ma prendete atto dell'esistenza di alcuni progetti di alcuni videogiochi in questo caso per poi andare a fare le vostre valutazioni finali vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo presto